La natività della Madonna bambina della Chiesa una volta, iniziamo il primo di settembre, perché la festa principale doveva essere la festa della Madonna, poi dopo non ha cambiato, non ha messo il Natale, perché è il Natale più importante per Gesù che non c'era. Allora qui la devozione alla festa della Madonna bambina si riferisce alla natività della Madonna, il giorno della nascita della Madonna, che Quello Omnipotente benedica l'estate della Madonna bambina che resterà in netto a noi come colei che ci aiuta nella nostra madre al mondo a vivere sempre secondo l'amore, la purezza, la generosità per Cristo nostro a vivere sempre secondo l'amore. Grazie 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 Grazie